Un po' ci pensavo e oggi alla fine mi sono successo un po' di tutti i colori. Pensavo di aver perso l'occasione e mi avrebbe dato davvero un grande dispiacere riuscire ad arrivare lì e poi perderla con qualche errore. E poi alla fine la buona, la vecchia regola, no? Non mollare mai. E alla fine siamo qui. La fuga è un'arte, no? Tu l'hai raccontata in tanti modi, però qui è arrivato qualcosa di importante. Stai per andare a indossare la maglia rosa. Sì, adesso mi fai piantere. No, ripeto, forse questo è un piccolo premio per i mille tentativi che ho fatto in 11 anni di carriera. E quindi cercherò di godermi al massimo questo momento. C'è una dedica che vuoi fare, una persona particolare? Ma è... La dedico ad Alessandro De Marchi e a sua moglie Anna. A Puglia cosa starà succedendo in questo momento? Non lo so adesso, ma so cosa potrà succedere quando torno ed è una bella cosa. È già successo e ci sarà tanta festa. Complimenti.